buongiorno eccoci al nostro secondo appuntamento con la piattaforma canva la volta scorsa abbiamo già visto molte applicazioni possibili con questa piattaforma oggi approfondiamo ancora qualche contenuto stiamo ancora come base come vedete sono sulla page della piattaforma e ancora oggi scegliamo presentazione 16 noni e approfondiamo alcuni contenuti ecco siamo nella nostra pagina bianca che cosa vogliamo realizzare oggi vogliamo realizzare una semplice presentazione di poche pagine che simuli la costruzione di una piccola unità di apprendimento questa volta per così come fantasia ok parleremo del mare e vedremo come realizzare questa semplice presentazione nella quale inseriremo anche a differenza di quello che abbiamo fatto in aggiunta di quello che abbiamo fatto la volta scorsa aggiungeremo anche la possibilità di un piccolo questionario all'interno della nostra presentazione il tutto per concludere con l'esportazione del nostro lavoro e la creazione di un link accessibile per chiunque quindi iniziamo come vedete abbiamo una slide completamente bianca vogliamo trattare abbiamo detto il tema del mare quindi come procediamo innanzitutto creiamo uno sfondo alla diapositiva come vi ricordate nella barra a sinistra ci sono tutti i comandi ora noi scegliamo sfondo siccome vogliamo trattare l'argomento mare prenderemo uno sfondo che è legato al colore dell'acqua quindi ad esempio questo azzurro una cosa del genere insomma no ecco se vogliamo caratterizzare ulteriormente il colore vedete che vado sulla tavolozza dei colori e posso scegliere il colore che preferisco oppure addirittura posso entrando dove c'è il più andare a selezionare tutti vedete tutti i colori che ci sono sulla tavolozza quindi in questo caso io prenderò un blu scuro per come base del mio lavoro bene creato questo sfondo lo sfondo l'ho fatto di tinta unita perché poi inseriremo delle immagini il mio consiglio o dei video il mio consiglio è quello di lasciare uno sfondo in tinta unita quando si inseriscono poi immagini o altri elementi grafici per non creare troppa confusione nella presentazione uno sfondo a immagine sulla quale inserisco altre immagini non risulta come effetto gradevole ora inseriamo il titolo della nostra presentazione abbiamo detto che è il mare quindi vado su testo aggiungo il titolo il mare seleziono il carattere che preferisco vi ricordate la volta scorsa abbiamo detto mi raccomando non perdiamo troppo tempo nella scelta dei caratteri stabiliamo quali sono quelli che ci interessano e poi li utilizziamo regolarmente ora per rendere più accattivante la nostra copertina ecco possiamo inserire delle immagini in questo caso useremo come effetto gli elementi le cornici vi ricordate la volta scorsa che abbiamo parlato delle cornici che sono queste figure che poi nelle quali si si tratterà l'immagine o il video che inseriremo in questo caso io prenderò questo questo tipo di cornice che mi ricorda un'onda e all'interno di questa cornice inserirò una un'immagine ecco ne creo due perché mi interessa averne due e metterò negli angoli dopo di che vado a scegliere una foto del mare ecco posso scegliere ad esempio questa e poi vado a scegliere un'altra foto del mare che può essere questa ecco in questo modo io ho costruito la mia semplicissima copertina chiaramente ora non stiamo a perdere molto tempo poi ognuno di voi quando si applicherà con questa con questa applicazione canva quando ci lavorerà sopra potrà caratterizzare ulteriormente evidentemente il colore del testo vi ricordo può essere cambiato cliccando sulla a col colore testo intanto vedete che il sistema mi ha già mi consiglia già alcuni colori tratti dalle foto che io ho inserito vedete altrimenti come prima posso scegliere io che colore inserire ecco io ad esempio scelgo questo bene e quindi la mia copertina è pronta a questo punto crea una seconda slide in questa seconda slide io voglio inserire i primi contenuti della mia presentazione e ad esempio voglio parlare delle balene faccio un esempio no quindi inserisco il titolo le balene prendo il mio carattere in questo caso utilizzerò bright e posso ingrandirlo lo posiziono sulla destra adesso cerchiamo di capire vediamo subito perché e poi sotto il titolo inserisco il testo esplicativo dell'argomento che io chiamerò in questo caso testo 1 però appunto ognuno di voi poi inserirà i contenuti che vuole presentare all'interno di questo lavoro accanto al testo quindi immaginate una colonna di testo piena ecco io ho scritto testo 1 però possiamo ad esempio ho scelto di incollare ho preso da wikipedia un testo ecco immaginiamo appunto che il nostro testo sia su questa colonna lo vado a ridimensionare in modo da essere preciso lo posso ovviamente allargare per renderlo un po più grande e più visibile ecco seleziono il carattere che mi interessa tendenzialmente rimarrò sul carattere per non stare appunto a riempire le nostre diapositive con tanti caratteri diversi che poi anche un po annoiano tipologie di carattere diverso quindi ecco ho il titolo e il testo il testo chiaramente posso formattarlo nel modo che preferisco allineato a sinistra giustificato allineato a destra centrato io farò un giustificato ecco quindi ho qui il mio testo a questo punto voglio inserire un video sempre sulle balene quindi digito balene e prendo questo video attenzione che devo trascinarlo se lo trascino rischio di inserirlo a tutta pagina quindi quando l'inserimento dell'oggetto copre tutta la pagina si posiziona come sfondo io invece lo voglio come oggetto quindi lo posiziono qui lo vado a ridimensionare in modo da renderlo il più possibile in ordine e allineato con la scritta dopodiché se voglio centrare il video semplicemente faccio questa operazione con un doppio clic di spostamento dell'immagine per vedere se l'effetto è corretto basta che clicco su play e vedete il mio video che si attiva molto bene quindi la prima diapositiva è completata ora per non perdere tempo duplico la pagina in modo da avere una formattazione molto simile a quella precedente per creare la seconda diapositiva ora è abbastanza efficace come metodo quello di inserire il testo e l'immagine in senso inverso rispetto alla precedente quindi se il testo l'ho messo nella prima diapositiva a destra lo metterò a sinistra e viceversa il video quindi prendo i miei elementi e li sposto ora chiaramente non starò a modificare ulteriormente il testo facciamo finta di averne inserito un secondo semplicemente lo riallineo cambio ovviamente il video quindi posiziono un secondo video di balena e lo vado a collocare esattamente all'interno del riquadro nel quale era presente il video precedente ora facciamo finta che questa costruzione sia quella esattamente che volevo realizzare e procedo con una terza diapositiva ora immaginate che la nostra presentazione di contenuti di questa prima parte dell'argomento mare sia conclusa e vogliamo a questo punto inserire un piccolo questionario con due o tre domande per vedere se i nostri alunni sono stati attenti durante questa prima parte della presentazione e quindi creiamo un piccolo questionario quindi creo una nuova pagina cliccando sul più come vedete lo sfondo è quello che abbiamo inserito all'inizio inserisco come testo domanda 1 metto già la tipologia di carattere che rimane il bright che è quello che ho scelto all'inizio ma rimanisco ognuno di voi scelga quello che gli piace di più quindi domanda 1 posso ingrandirlo sempre vedete spostando ridimensionando l'oggetto posiziono la domanda al centro fate finta che qua ci sia una domanda e poi vado a creare tre risposte tre risposte di cui ci saranno due risposte sbagliate e una giusta quindi inserisco una prima e chiamerò risposta 1 metto il carattere che ho scelto posiziono la risposta nel punto in cui desidero a questo punto copio e incollo l'elemento ecco così da non perdere tempo se non cambiando semplicemente il contenuto della risposta quindi in questo caso ho detto risposta 2 e qui risposta 3 ecco in questo caso in questo modo ho le mie tre risposte per arricchire immaginate quindi che ci sia testa domanda per arricchire questa diapositiva posso inserire degli elementi grafici di disegno ad esempio di balene prendo questa la restringo la posiziono magari la giro leggermente e poi faccio questa operazione molto interessante a livello grafico che è quella di creare una piccola trasparenza una leggera trasparenza in modo che l'oggetto diventi proprio inglobato all'interno della diapositiva quindi ho scelto questa immagine vediamo se ne trovo un'altra che può piacere ad esempio posso scegliere questa la ridimensiono la sposto magari appunto la giro un attimo e anche qui ci applico una trasparenza ecco a questo punto ho la prima domanda del mio questionario ora cos'è che vogliamo realizzare? vogliamo a differenza delle altre due diapositive che abbiamo messo sequenziale ricordate che Canva procede in modo sequenziale quindi una pagina dopo l'altra qui vogliamo creare invece un collegamento legato alla tipologia alla scelta della risposta che ho dato quindi ci sarà una risposta corretta che teniamo la risposta centrale risposta numero due ognuno di voi può posizionarle dove vuole evidentemente e a seconda della scelta che avremo fatto avremo una risposta della nostra presentazione differente quindi per concludere la parte di grafica sulle domande consiglio di inserire dove ci sono le risposte dei riquadri che trovo sempre in elementi vedete questi riquadri prendo un riquadro lo trasformo in un rettangolo e lo posiziono sotto la risposta in modo che graficamente risulti anche più bello da vedere ecco fatto quando l'ho sistemata prendo il mio elemento lo copio e lo incollo sempre nella logica di non perdere tempo ora come avete visto in questo caso gli elementi si sono sovrapposti al testo quindi darò il comando posizione vedete qui in alto di portarlo indietro e lo darò anche all'altro elemento a questo punto vedendo il testo posso centrarlo in modo preciso ecco benissimo ora abbiamo creato la diapositiva con le domande a questo punto vogliamo creare dei collegamenti in modo che cliccando sulla risposta sbagliata che sarà la 1 e la 3 avremo come risposta quella dell'errore mentre cliccando sulla risposta 2 che sarà la risposta giusta procederemo nel nostro questionario quindi incominciamo a duplicare la diapositiva che abbiamo appena fatto che utilizzeremo come domanda 2 per procedere nel questionario vedete sempre nella logica del non perdere tempo utilizzare il più possibile elementi già creati pagine già create ora se la risposta corretta è la risposta 2 come procedo in questo modo seleziono insieme i due elementi quindi il riquadro e il testo do il comando raggruppa in modo che diventi un elemento solo clicco sul comando dove ci sono i pallini e scelgo link a questo punto il sistema mi chiede a che cosa voglio collegare e io lo collegherò alla diapositiva numero 5 che sarà la domanda 2 ecco vedete mi ha collegato la domanda 2 torno sulla domanda 1 a questo punto dovrò fare i collegamenti per le risposte sbagliate quindi come procedo preparo la diapositiva per l'errore quindi ad esempio cerco un video scrivo error e vado a cercare un video che comunichi ecco ad esempio questo molto bellino prendo questo e lo inserisco che comunichi al nostro alunno che ha sbagliato la risposta attenzione quindi ora collegherò risposta 1 e risposta 3 alla diapositiva 6 quella dell'errore quindi seleziono entrambi gli elementi risposta e riquadro raggruppo prendo il comando dei suoi tre pallini link e lo collego alla diapositiva 6 error la stessa operazione la faccio con risposta 3 seleziono i due elementi raggruppa tre pallini link diapositiva 6 ora siccome io ho cliccato la risposta sbagliata e il sistema abbiamo andato nella diapositiva dell'errore a questo punto io dovrò creare un pulsante che mi permette di tornare indietro e il modo più efficace per farlo è questo riprendo il riquadro lo trascino in modo che copra tutta la pagina completamente ricordatevi completamente perché le diapositive di Canva vanno avanti e indietro cliccando sulla sinistra si torna indietro cliccando sulla destra si va avanti quindi io devo creare un pulsante che copra tutta la pagina creo il collegamento alla diapositiva numero 4 che è quella di partenza dove ho iniziato le risposte dopodiché vedete mi ha riportato la domanda 1 dopodiché rendo trasparente questo pulsante quindi cliccando sul riquadro dove ci sono questi quadratini dove c'è scritto trasparenza vedete porto a 0 cioè completamente invisibile ecco a questo punto vediamo la nostra presentazione abbiamo la copertina il primo testo con il video il secondo testo con il video la domanda domanda 1 risposta 1 risposta 2 risposta 3 ricordiamoci risposta 2 è quella corretta risposta 1 e risposta 3 sono quelle sbagliate se io clicco su risposta 1 vado nella pagina d'errore se clicco sulla risposta 3 vado nella pagina errore e come vedete torno indietro cliccando se vado sulla risposta 2 ecco che mi vede domanda 2 quindi procediamo con le domande ora facciamo finta che alla domanda 2 si conclude questa prima parte del questionario che non è una brutta idea quella di fare all'interno di una presentazione che magari dura 20 minuti mezz'ora una serie di piccoli argomenti che poi vado a testare con delle domande per vedere se gli alunni sono stati attenti quindi finita una prima sezione faccio 2-3 domande e al termine della presentazione completa facciamo finta che sia composto da 4 sezioni al termine di ogni sezione faccio 2-3 domande e al termine della presentazione rifaccio le domande che ho posto all'interno delle sezioni tutte insieme in modo che i ragazzi siano continuamente stimolati a prestare attenzione all'argomento che sto presentando a questo punto abbiamo detto siamo alla diapositiva 2 anche qui manteniamo la risposta 2 corretta giusto per non confonderci e utilizziamo chiaramente la diapositiva dell'errore però la duplichiamo e quindi attenzione se l'ho duplicata il pulsante invisibile che c'è mi rimanda alla diapositiva 4 cioè la domanda 1 quindi io ora cambierò il comando clicco sul pulsante invisibile vado sul comando link rimuovo il collegamento vedete che è la 4 la domanda 1 e lo collego alla diapositiva 5 che è la domanda 2 e vado alla pagina ecco quindi la diapositiva 7 che è il secondo errore l'ho collegata alla domanda 2 a questo punto risposta 1 risposta 2 risposta 3 dovranno essere ulteriormente collegati quindi risposta 1 raggruppo faccio do il comando link e la porto alla diapositiva 7 che è quella dell'errore risposta 3 raggruppo do il comando di collegamento link e lo collego alla diapositiva 5 a questo punto devo creare un'ulteriore diapositiva per la risposta numero 2 che ricordo è quella corretta quindi creo una pagina in questo caso la voglio fare un po' più coinvolgente i ragazzi hanno finito di rispondere alle domande di questa sezione e quindi ho deciso che al termine di questa piccola verifica diciamo così io metterò dei fuochi d'artificio ecco dei fuochi d'artificio vediamo vediamo se questo video è bello è un po' lento quindi non è il massimo prima vediamo se ne troviamo uno un po' più efficace questo dura 10 secondi quindi è decisamente più efficace vediamo se funziona ecco che l'ha inserito vediamo ecco guardate i fuochi d'artificio ora aggiungiamo a queste diapositiva con i fuochi d'artificio un testo nel quale gli diciamo ad esempio complimenti complimenti metterò il carattere in questo caso rimetto quello del titolo che è anche abbastanza efficace lo posiziono magari in un punto dove possa essere ben visibile se voglio posso anche chiaramente cambiare il colore magari qualcosa di un po' più un po' più efficace di questo sbiaditissimo giallo lo facciamo un po' più vivo ecco una cosa del genere oppure insomma quello che volete voi anche in questo caso non stiamo a perdere troppo tempo decidete voi ecco prendo un arancione che mi va bene complimenti a questo punto io collegherò la risposta 2 che è quella corretta raggruppo vado sul link chiaramente scelgo nella risposta 2 scelgo di collegarmi alla diapositiva 8 e arrivo al video con i fuochi d'artificio dopodiché posso continuare a creare la mia presentazione inserendo altri contenuti altri video altre immagini eccetera consiglio sempre di duplicare le pagine in modo da procedere più speditamente modificando solo i contenuti ora facciamo finta che la nostra presentazione sia conclusa quindi la vado a verificare quindi presento il mio titolo la prima diapositiva la seconda diapositiva la domanda domanda risposta 1 sbagliata risposta 3 sbagliata risposta 2 corretta avete visto siamo passati la domanda 2 risposta 1 sbagliata risposta 2 3 scusate sbagliata ma non ho avete visto non ho collegato quindi non mi va da nessuna parte risposta 2 invece ecco complimenti complimenti siamo arrivati in fondo quindi mi sono accorto di aver fatto un errore risposta 3 non l'ho collegata alla seconda perché in realtà era collegata su se stessa avete visto abbiamo sbagliato quindi andiamo a riprendere sulla seconda diapositiva dell'errore la diapositiva numero 7 e vado alla pagina ecco adesso sicuramente è corretta e quindi la risposta 3 mi porta all'errore e poi mi riconduce alla risposta 2 ecco a questo punto il nostro lavoro diciamo è completato ora arriva la parte se volete più interessante di questa applicazione cioè il momento in cui noi dobbiamo condividere il lavoro che abbiamo creato cliccando su condividi noi abbiamo una serie di possibilità presentare presente registra che sarebbe un po' quello che sto facendo io in questo momento cioè creare una presentazione e poi registrare registrarci dentro la presentazione mentre stiamo parlando questo può essere molto utile nel momento in cui vogliamo creare delle video lezioni quindi apparirà un pallino sulla sinistra in basso a sinistra con la nostra faccia registrata dalla webcam in cui spiegheremo le diapositive quindi presente registra permette a colui che ha creato la presentazione di trasformarla in un video nel quale è presente la registrazione della webcam quindi noi che parliamo e chiediamo i comandi per procedere con la presentazione in questo caso chiaramente quello che abbiamo fatto è più uno strumento da utilizzare in classe oppure da consegnare ai ragazzi per essere visualizzato essendoci delle domande noi invece ora vorremmo semplicemente condividere il link poi da condividere ad esempio su Classroom su Teams sulle piattaforme che utilizziamo a scuola oppure inviandolo via mail oppure semplicemente vogliamo avere il link per accedere in classe con i ragazzi quindi come vedete abbiamo il comando copia link però attenzione il sistema è preimpostato di default per una condivisione limitata del link cioè condivide il link solo con le persone aggiunte cliccando sulla freccina noi sceglieremo invece chiunque abbia il link e attenzione accanto quindi in questa zona clicchiamo sulla freccina e non diciamo che chiunque abbia il link può modificare ma può visualizzare ecco visualizzare tra i comandi è possibile anche può commentare in un lavoro collaborativo si possono inserire dei commenti nella presentazione può visualizzare a questo punto io faccio copia link attenzione può visualizzare è importante perché se io do il link a chiunque e chiunque può modificarlo basta che abbia l'applicazione Canva e può completamente stravolgermi la presentazione quindi può visualizzare ho copiato il link ora io apro una pagina sul mio browser incollo il link che ho appena copiato ed ecco vedete la presentazione che abbiamo appena costruito è un link condividi guardatelo vedete il link che abbiamo appena copiato diventa quindi come una pagina a internet i pulsanti per procedere come vedete è sempre predisposto questi pulsanti per andare avanti e indietro e qui le domande con le risposte quindi risposta qui devo aver cliccato due volte scusate ecco vedete ecco fatto quindi la nostra presentazione è diventata un link che io posso visualizzare ovunque mi serve solo una connessione a internet non ho bisogno di installare nulla sul mio computer e quindi abbiamo una presentazione facilmente accessibile in cui abbiamo possiamo curare la grafica in modo decisamente quasi professionale e quindi avere uno strumento potente per aiutarci nel nostro lavoro a scuola ecco quindi chiudo la pagina bene con questo direi che la parte su Canva l'abbiamo conclusa ci sono molte altre potenzialità e vi invito a provarla e a scoprire quali sono tutte queste potenzialità di Canva che è veramente una piattaforma molto 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 interessante e la prossima volta settimana prossima approfondiremo un'altra piattaforma che è più legata alla creazione di giochi di verifica la piattaforma di cui parlo si chiama World Wall è una piattaforma molto semplice ma molto simpatica che permette la creazione di piccoli questionari piccoli giochi di verifica delle conoscenze acquisite e non solo da applicare molto nella scuola primaria ma anche nella scuola secondaria soprattutto di primo grado al termine di questa presentazione vedrete un piccolo assaggio di quello su cui lavoreremo la volta prossima vi ringrazio per l'attenzione ci vediamo settimana prossima ciao Grazie a tutti.